Si scrive Federico Coppitelli, si legge finale. La Roma centra il primo traguardo del suo percorso a tappe verso il tricolore, battendo il Milan in una semifinale da incorniciare. A San Quirico Torce i rossoneri vanno infatti avanti per ben due volte, ma alla fine vengono rimontati dai giallorossi, guidati da un tuminello in formato maxi. Non ci mette molto la Roma a farsi vedere, infatti al sesto Donnarumma rischia grossi in uscita, fermando la sfera con le mani ma fuori dell'area di rigore. Ineccepibile il calcio di punizione che Bordino prova a trasformare calciando però sulla barriera. Al quarto d'ora il Milan balla ancora. Jammas buca sul lancio di Marcucci, spianando la strada a Tuminello. Il numero 9 viene prima fermato da Donnarumma, poi sul tapine non trova di un soffio la porta e il gol del 1-0. La Roma continua a spingere infatti al 27esimo e di non far rubare il tempo dell'intervento ai Lali, facendosi metà campo palla al piede ma mettendo di pochi centimetri al lato il suo diagonale. Il vantaggio giallorosso sembrerebbe nell'aria ma due giri al sette più tardi a passare il Milan. Tocatelli spinge e si inserisce a sinistra, mettendo a centro aria un assist sul quale Amati risponde presente, ingannando Crisanto e timbrando 1-0 l'osso nero. Per la Roma non c'è tempo di metabolizzare lo svantaggio perché alla mezz'ora il signor Meocci giudica faloso l'intervento di Ciavattini sul zanellato e indica il dischetto. Dall'11 metri Cutrone letale, 2-0 e Milan che sembra mettere un piede in finale. I ragazzi di Coppitelli sembrano le corde ma continuano a crederci e al 34esimo il cross di Dinolfo trova le deviazioni prima di Talena e poi di Bordin. Ma l'ultimo e decisivo tocco è di Tuminello che in girata affredda Donnarumma e riapre totalmente la gara. Gara che potrebbe tornare in equilibrio prima della fine del primo tempo quando Pellegrini pesca ancora il suo numero 9 che si trova in autostrada davanti ma centra la traversa che linea la doppietta. La ripresa inizia con il Milan in avanti e infatti dopo neanche un minuto la Ferrara avrebbe la palla per il Tris ma caccia sull'esterno della rete. Errore pesante perché al sesto la Roma lo punisce. Angolo di Bordin è Tuminello non arpiona ma alle sue spalle ci pensa Marchizza a scaricare il sinistro oltre le spalle di Donnarumma e inchiodare la nuova parità su 2-2. Coppitelli si gioca anche la carta Antonucci e al 14esimo è proprio il non entrato a disturbare Malberti e poi a trovare Talena sul quale Donnarumma deve chiudere. Dalla parte opposta il Milan prova a pungere con Schamas ma Crisanto mette in corner. La spinta giallorossa rimane costante e al 29esimo viene premiata. Alto schema con Bordin e protagonista Antonucci si stacca dalla barriera in buca per Tuminello che da due passi però non può sbagliare. Donnarumma ha battuto per la terza volta e la Roma che mette a destra avanti. Al tentasiesimo la questione prova a chiudere la Marchizza che spinge come un tanque sulla sinistra resistendo all'opposizione prima di Tepiano e poi di Leilali venendo fermato solamente da Donnarumma in uscita bassa. L'occasione sprecata rischia di pesare nel finale quando Crisanto riesce a superarsi sul colpo di destra di Crociata, ad avventarsi sul pallone vacante e a nero ma sulla linea ci pensa Dofanari a spazzare via l'ultimo assalto rosso-nero. Dopo 5 interminabili minuti di recupero i tre fischi del signor Meocci decretano che andrà in finale alla Roma. Coppitelli c'entra il suo terzo atto conclusivo consecutivo, il secondo con il classe 98 con i quali venerdì proverà a cancellare la delusione di due stagioni fa contro l'Inter. Ad attenderlo l'Empoli di Bigica, rivelazione di una Final 8 nella quale i Toscai non vogliono certo fermarsi. Sarà una finale tutta da vivere con la Roma che avrà davanti a sé un appuntamento con la storia.